In ambito locale i cambiamenti climatici hanno degli effetti sulle componenti geologiche prioritariamente sul fenomeno di alluvioni e frane, aumentano le piogge breve ed intense e quindi questo innesca dei fenomeni di carattere alluvionale. Inoltre ci sono degli effetti sull'inalzamento del livello del mare. L'inalzamento del livello del mare ovviamente produce erosioni costiere ma c'è anche un'interferenza con le falde acquifere costiere. Quindi sono effetti che vanno studiati a lungo termine e sui quali bisogna intervenire. Intervenire con la consapevolezza della popolazione e dei decisori. Dopo è necessario adottare delle pianificazioni che possano contenere gli effetti degli alluvionamenti sul territorio e inoltre bisogna coinvolgere la popolazione in termini di adattamento e autoprotezione. I dati che vengono pubblicati a livello internazionale dicono che la temperatura è aumentata dal post-industriale ad oggi di 1,2 gradi che anche se si applicano tutte le politiche di contenimento della CO2 si avrà nel 2100 un innalzamento della temperatura di 2,7 gradi. Quindi il processo avviato è un processo che è stato accelerato dalle azioni antropiche e che probabilmente sarà difficilmente fermare. Per questo dicevo che bisogna intervenire in termini di consapevolezza, pianificazione e autoprotezione. Il livello del mare si sta sollevando di anche 8 mm l'anno. Ciò significa che nel giro di 200 anni ci saranno 2 metri di sollevamento del livello del mare. Ma questo in una ampia pianificazione non tiene conto dei effetti che possono essere effetti naturali di amplificazione tipo lo scioglimento dei ghiacci dell'agroelandia. Soltanto lo scioglimento dei ghiacci dell'agroelandia comporterà un innalzamento del livello del mare di 6-7 metri, quindi con effetti devastanti su tutto il territorio costiero, non soltanto del Mediterraneo ma dell'intero globo. In prima maniera il cittadino deve essere consapevole di quali sono gli effetti al suolo, dell'inalzamento delle temperature e quindi degli eventi alluvionali. In secondo luogo il cittadino deve seguire quelle politiche di contenimento, di emissioni di CO2 e quindi adottare anche politiche commerciali che favoriscano l'utilizzo di energie rinnovabili. In terzo luogo il cittadino deve chiedere e imporre ai decisori di fare azioni che possano concorrere a contenere i gas serra, a contenere il consumo di suolo, a sapere quali sono gli effetti al suolo in modo che una pianificazione corretta faccia in modo che le azioni dell'uomo non amplificano gli effetti, per esempio effetti alluvionali. Cioè noi abbiamo registrato all'inizio del Novecento delle alluvioni nella terra di Bari e si è intervenuto con i deviatori, con i canaloni. A distanza di 100 anni effetti analoghi si hanno a Molfetta, si è andato ad urbanizzare con la zona industriale un'area dove c'era un reticolo idrografico, ora si sta decidendo perché si è urbanizzato e intervenire con dei deviatori, quindi dobbiamo essere attenti a una pianificazione del territorio.